io l'ho visto l'ho conosciuto mi ha detto mi ha chiamato mi ha cercato posso dire solo questo e non vi dirò il nome mi ha cercato con un funzionario che conoscevo così per per rapporto diciamo di banca io vado a versare quelle lemosina un funzionario di banca della banca nazionale del lavoro di roma ciao giorgio sono tizio e perché mi chiami è perché io lavoro con un personaggio molto importante so che tu ti occupi fai divulgazione questo ti può aiutare ma sei sicuro sì guarda che c'ha soldi in miliardi di euro a me non mi servono miliardi magari mi serve qualche progetto qualche centinaia di migliaia di euro va bene cioè anzi grazie miliardi non so cosa farcene anzi forse lo so e quindi è meglio che il signore non faccia questo errore perché l'umanità finirebbe nel giro di pochi giorni quella cattiva mi mi dice vabbè io ho incuriosito si chiama tal dei tali vive sui vicini vive una delle sue residenze attorno come si chiama lassù non ha a roma montemario in una villa di montemario poi vive a zurico viva new york a londra e poi una cittadina sconosciuta che è insignificante ma che invece è parte fondamentale palermo tra l'altro ti devo raccontare una storia molto importante fa parte della voce del sole a palermo mi chiama un amico è uscito un trafiletto così due righe la notizia sul corriere della sera dopo e sul giornale di sicilia tre di quattro righe mi chiama giorgio collega di palermo che stimo che abbiamo fatto cose dell'antimafia ti devo raccontare una cosa dimmi ma lo sai a chi sono andato a intervistare a piazza marina a palermo nel bar di piazza marina dove hanno ucciso tra l'altro a giò petrosino la mafia nel 1909 a chi hai incontrato no non ci credi ma 95 93 anni già ma dai chi aveva incontrato il figlio di c'è il 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 risuscitato agnelli e mister che mi stai raccontando come se collabava la bocca ho incontrato david rockefeller il patriarca a piazza marina a palermo mi sono avvicinato mister rockefeller giornalista giornale di sicilia lui accompagnato con una guardia del corpo credo non so lo guarda my friend se da un sediti che vuoi che cosa che giornale 6 giornate sicilia a palermo sicilia penso sì fammi l'intervista david rockefeller il patriarca ma lei perché è venuto qui a palermo ma avevo tanto desiderio di prendermi un caffè adesso io vi faccio la domanda a voi ma l'uomo il più importante il più famoso il tra i più ricchi del mondo quello che c'ha tutte le banche mezze banche mondiali quello che conosce la storia della finanza degli ultimi 70 anni almeno quello che ha fondato la exon scusate ma che minchia ci va a fare a palermo al 94 anni e poi muore che cosa c'è a palermo a parte il caffè forse doveva dire io sono uomo di parola siccome ho un'età allora la troverete questo la parlate con questo mio figlio la troverete quest'altra persona la c'è quello che vi avevo garantito ed è tutto a posto sono venuto di persona questo è più credibile perché tra le città più importanti al mondo non la più importante tra le più importanti del mondo dove si decide il destino della finanza mondiale palermo e reggio calabria reggio calabria sono molto importanti per questo direttore tra l'altro questo è da statistica giudiziaria reggio calabria è la regione più povera d'italia la calabria reggio calabria la città più povera per il pil pro capite la più povera più di palermo la calabria e reggio calabria a livello di produzione di soldi e di ricchezza batte la california che la regione più ricca del mondo lo sapevate no perché produce in nero i proprietari della produzione di cocaina calabresi credo che da soli producono tra i 50 e 70 miliardi di euro all'anno loro da soli quindi se vivono a reggio calabria o in calabria la calabria è la regione più ricca del mondo lo sapevate eppure in calabria è come se tu ci siano stato l'altro giorno vivessi nel medioevo spazzatura disoccupazione malattie ma lì ci sono virtualmente ovviamente perché non sono lì i soldi più importanti di tutte le altre è la numero una la seconda è la california la numero uno reggio calabria pensa interessantissima quindi quest'uomo perché un uomo lo chiamiamo il direttore perché dobbiamo chiamarlo mi ha detto tu devi lei mi dava del lei lei ha bisogno di aiuto e ha bisogno di me gli ufo gli extraterrestri la mafia progetti umanitari le dò tutto quello che mi disse che mi dava subito ma me ne dava tanti altri 66 milioni di dollari 66 600 no scusate 666 milioni di dollari l'ha detto simbolicamente beh una bella cifra 666 non dico che non è povera sì ma non dovevo parlare dove volevo potevo fare quello che volevo anche mi avrebbe aiutato a scoprire tutti gli stragisti mandanti delle mafie però non dovevo parlare della seconda venuta di cristo mai più mi disse mi ricordo cristo è per il cielo noi siamo per la terra che non è che ha detto che cristo è un falso ha detto cristo è per il cielo io sono per la terra poi l'ho incontrata altre due volte però più di questo quello che ho reso pubblico vi ho raccontato altro non ve lo posso dire non mi dite come si chiama ma uscirà lo scoperto prima o poi uscirà lo scoperto anzi vi aiuto uscirà lo scoperto e voi vi innamorerete tutti tranne io perché lo conosco perché vi farà delle cose straordinarie vi aiuterà nella vostra vita fisica tutto la cosa più bella che credo ma questo non ne sono certo ma sto aspettando notizie che vi dirà e vi allungherà la vita non morirete 80 anni morirete a 150 140 chi non lo adorerà chi non ama un personaggio che ti dice se se succederà spero di no perché sarà difficile per tutti non per me cioè io mi ritrovo da solo quasi da solo quindi spero che il padre faccia ingannare con un'altra cosa dove tu almeno traballi un po ma lì se mi scopre questo la pastiglia che ritarda l'invecchiamento delle cellule che stanno studiando è un amico di milano il nostro uno dei suoi subalterni strafamoso credo che sta testando questa pastiglia che lui vuole campare fino a 160 anni berlusconi l'aveva anche detto beh se scoprono questa questa terapia lui uscirà lo scoperto perché vuole sarà una sarà un momento di debolezza dove sta perdendo il controllo del mondo sia con migliaia e migliaia di giovani che si risveglieranno questo è il nostro compito ma soprattutto di una grande superpotenza o due cioè la cina e la russia che già iniziano ad andarli contro ma non parlo di biden parlo che questo signore che si siede nel consiglio di amministrazione del mondo dove c'è la russia l'italia è comandata dalle banche il presidente draghi appunto rappresenta le banche gli altri presidenti del consiglio erano il maggiordomo delle banche che dovevano andare draghi e siccome la pandemia ha picchiato duro gli hanno detto senti vacci tu perché tu sei competente sennò questi cretini capiscono fischi per fiaschi e magari i cretini sono i presidenti del consiglio eppure conte mi piaceva mai un altro discorso poi ne parliamo e quindi nel consiglio di amministrazione che cosa succede che alcuni potenti del mondo che comandano e che coincidono ad essere presidenti putin è uno che comanda putin ha detto alla mafia io sbagliando io non sono amico di putin io ti tengo ma tu fai quello che ti dico io se no ti anniento e un boss mafioso o finanziato dalla mafia porovodoski l'ha mandato in siberia per 17 anni quello è uscito e poi putin l'ha graziato detto va bene vattene in francia si è tenuto 2 3 miliardi di euro spiccioli e tutti gli altri boss della mafia sono sotto putin compreso il allenatore del celsi il multimiliardario abramovic quello è in ginocchio da putin eppure tra gli uomini più ricchi del mondo putin sta andando contro il direttore e quindi può scatenarsi una guerra atomica perché quello non vuole rivali nel mondo pensate che in questo consiglio di amministrazione l'avete visto il video sulla palestina che abbiamo fatto cioè gli ebrei uccidono i palestinesi tantissimi i palestinesi uccidono gli ebrei pochissimi perché gli ebrei l'esercito più potente al mondo e poi gli arabi e gli israeliani che si odiano a morte sono seduti insieme a questo signore nei grandi consigli di amministrazione delle banche arabe e israeliane gli sceicchi si abbracciano si baciano fanno le abbracciano insieme e poi a gaza fanno finta di odiarsi questo è l'anticristo mi hai fatto la domanda questo è l'anticristo questo siamo tutti fratelli tutti sono false le guerre di religione è falso il terrorismo è falso che ci sono l'iran e contro contro israele per tipo ti tiro la bomba atomica è falso è un grande inganno è solo per controllare le masse l'iran è un'altra nazione che si è dissociata dall'anticristo quindi è una profezia dell'apocalisse che io metterò i potenti contro i potenti c'è una profezia della madonna quindi questo scontro causerà questo conflitto allora lui lo sa il direttore finisco lo sa che che c'è un grande rischio ma non sa tutta la verità la verità la sa suo padre che è satana che è uno strumento di dio quindi satana sta ingannando a suo figlio gli sta dicendo noi governeremo sempre questo cristo starà là stai tranquillo qua vinciamo noi fai quello che devi fare a questo putin lascialo perdere invece il lucifero sa benissimo il disegno del padre ma è costretto per ubbidienza a far seguire il figlio in questa politica criminale fino al ritorno di cristo quindi finisco forse questa è una novità gesù cristo e questo signore si incontreranno faccia a faccia io non sono niente non devo distruggere nessun anticristo io devo dire sono venuto in questo mondo io sono venuto in questo pianeta per dire a voi fratelli è quello non seguitelo basta poi me ne vado a casa gesù lo sconfiggerà lo annienterà io sono venuto per dire è quello non seguitelo se seguite lui sarete giudicati dal mio signore questa è la mia missione strucca strucca è questa